Luglio abbiamo registrato un altissima percentuale, non abbiamo i numeri ancora ufficiali ma si parla di un quasi tutto esaurito sicuramente nei weekend e con settimane molto carichi di lavoro vicine a quello che è un tutto esaurito. Un inizio di agosto molto proficuo, un ferragosto che si preannuncia all'ordine del tutto esaurito. Un'estate d'oro per il turismo a Trieste i cui numeri si sommano a un trend in crescita che dura da un anno. Il bilancio finale si farà a ridosso della Barcolana ma gli albergatori di Trieste sono soddisfatti, anche il periodo di ferragosto sorride agli esercenti del settore. La caratteristica di questa parte centrale di agosto è che tutte le prenotazioni sono all'ultimo minuto, non hanno una grossa, cioè chi ha prenotato per più giorni ha prenotato tempo dietro ma all'ultimo minuto sta dominando proprio i giorni centrali di ferragosto. In effetti rispetto agli anni passati il turismo a Trieste è cambiato. Ma quello che è radicalmente cambiato è che fino adesso abbiamo visto pernotamenti molto più lunghi, anche dell'ordine di 5, 6, 7 notti o anche di più, cosa che negli anni passati non si vedeva. Oggi viceversa abbiamo un turismo che sceglie di venire a Trieste per scegliere la località, non solamente di passaggio. Indovamente, ripeto, vi è ancora un fenomeno di passaggio delle persone che si fermano l'una o due notti per andare in Croazia o ancora più giù. Ma mentre questo era il fenomeno dominante una volta, oggi Trieste viene scelta come destinazione. Anche il ventaglio della tipologia di turisti che giungono a Trieste si è ampliato. Dalla metà di luglio è caratterizzato dagli stranieri, olandesi, ungheresi, ucraini, anche sudamericani, spagnoli, che vengono a Trieste principalmente per prendere alcune delle navi da crociera. Gli italiani nella parte centrale sono leggermente in calo ma sono comunque presenti come nostro turismo.